di squadra poi noi ci mettiamo la faccia e siamo fieri di lavorare con questa professionalità per cui ancora un applauso a loro perché davvero se lo meritano e poi è un comparto che ha sofferto tantissimo e quindi va incoraggiato ancora di più allora noi ogni tanto diamo lo sguardo a Gianni Martin che ci fa dei segni bellissimi che è responsabile di quello che succede sul palco e ci dice che è tutto pronto quindi possiamo continuare con il prossimo gruppo sì sì i Fragment vado vado racconto allora i Fragment nascono nel 2015 dal amore di Ariely Cartocci e alcuni colleghi romani per le sonorità celtiche una delle grandi componenti della world music e insomma delle sue innumerevoli tradizioni musicali Fragment sono i frammenti di un puzzle o puzzle come preferisci puzzle che lungi dall'essere finito e ricomposto lascia il campo a infinite esplorazioni e combinazioni creative una sfaccettata rilettura della tradizione musicale irlandese scozzese e bretone una riflessione musicale tra passato e presente tra il ricco patrimonio culturale della tradizione e le sonorità trascinanti della musica contemporanea non ci resta che raccontare chi c'è sul palco dietro di noi ovvero Ariely Cartocci al Bozuki irlandese chitarra classica elettrica bombarda e voce Vittoria Nagni al violino Gabriele Ceccarelli whistle piano e tastiere Lorenzo Beverati basso elettrico e bodaran Stefano Vestrini batteria e cajon Fragment Buonasera a tutti questo è un brano tradizionale scozzese si chiama The Queen of Our Guile Buonasera a tutti 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 Grazie Buonasera a tutti 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 Buonasera a tutti